Qualche dettaglio e la nuova concessione trentennale all'autobrenner S.P.A. sarà cosa fatta. Dopo la firma ieri a Roma del protocollo d'intesa si dovrà ora procedere all'acquisizione di quel 14% di quote ancora in mano ad azionisti privati per far sì che la società sia interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche, territoriali e locali, condizione senza la quale non sarebbe stato possibile evitare la gara europea, alla quale comunque la società di Via Berlino a Trento sarebbe arrivata preparata. Eravamo convinti di essere competitivi. Dunque io direi che avremmo avuto buone chance di vincere anche una gara. Oggi al Palazzo della Regione a Trento sono stati illustrati alcuni dei dettagli principali dell'accordo firmato nella capitale. Tra di essi quello che obbliga Autostrada del Brenner S.P.A. a versare ben 2 miliardi di euro per interventi sull'autostrada, terza corsia tra Verona e Modena, quella dinamica tra Bolzano Sud e Verona e sovrappassi gli interventi più importanti. Ma arriveranno anche 100 chilometri di nuove barriere antirumore. Delle protezioni antirumore che non sarebbero prescritte, però comunque che volontariamente faremo per migliorare ancora la situazione dei confinanti. Però sono ancora da vedere. In tutto si pronostica proprio che siano più di 100 chilometri. Si guardiamo che attualmente sono soltanto più di 80 quelli esistenti. Credo che sia questa un'ottima notizia. Nei 2 miliardi di investimenti obbligatori ci sono anche contributi alle province di Bolzano e Trento, per opere esterne all'asse autostradale. Da qui arriveranno soldi anche per il primo lotto dello spostamento della statale del Brennero a Bolzano. Il primo lotto, cioè lo spostamento dell'S12 di per sé costrere 200 milioni e crediamo che 120 di questi potrebbero essere finanziati dall'autostrada. La nuova concessione obbligherà inoltre Autobrenner S.P.A. ad impegnarsi ancora di più sul tema dell'intermodalità e del passaggio del traffico pesante da gomma a rotaia. E per favorire questo passaggio e al contempo ridurre lo smog, si procederà anche ad un aumento dei pedaggi per i mezzi pesanti più inquinanti. Il protocollo d'intesa prevede la possibilità di applicare o anzi forse addirittura la volontà di applicare la direttiva aerovignette e questo prevede un aumento di tariffa solo per i camion e peraltro anche solo per quelli più inquinanti. Cioè i camion più moderni non dovrebbero pagare comunque un aumento di tariffa.